Buongiorno a tutti, oggi vi voglio portare un messaggio che sta arrivando adesso in diretta dagli esseri di luce, qui non è ancora assorto il sole a Sedona, gli esseri di luce mi hanno sollecitato proprio perché potessi portarti questo messaggio e adesso ti arriverai in diretta. Accogli oggi e in questi giorni l'energia di trasformazione che sta arrivando, in questi giorni sei sollecitato da tempeste energetiche, è come se gli esseri di luce stessero cercando di sfondare una corazza di ghiaccio che c'è attorno a te ed è una corazza che hai posto per resistere alla tua espansione e alla tua manifestazione terrena, come essere di luce, come essere divino. Lascia che possiamo aiutarti a sciogliere il ghiaccio che hai posto attorno a te e che non ti permette di espandere il tuo cuore, vedi, quello che tu stai facendo è normale perché stai cercando di resistere ad un cambiamento che porterà grandi trasformazioni nella tua vita se te lo concederai. Abbi fede, è qualcosa di buono per te, a livello supremo e assoluto. Ci sono dei punti in cui hai bisogno di portare particolare attenzione in questo momento, ci sono dei legami affettivi che hai paura di perdere con questa trasformazione. è bene quello che ti diciamo che non puoi, non è bene per te cercare di portare avanti delle relazioni con attaccamento, ma è sempre bene per te aprire il tuo cuore a ciò che è connesso al tuo bene supremo, che come già sai è connesso al bene supremo di tutte le persone che ti circondano. Non è trattenendo con la paura che puoi portare amore nella tua vita, ma è semplicemente aprendo le tue mani e lasciando che il corso delle cose possa prendere la direzione perfetta. E quando lo fai il tuo cuore si alleggerisce e tutte le tensioni che tu senti nella tua vita e anche nel tuo corpo, in particolar modo nelle spalle, nelle braccia, nelle schiene, si alleggeriscono. Il tuo corpo diventa più leggero e tu puoi vivere in modo più semplice la tua esistenza. ascolta proprio mentre stiamo parlando qualcosa in te si sta aprendo, è come se in questo ghiaccio si fosse creata una breccia dove tu lasci scendere la nostra energia dorata che va prima di tutto a scaldare il tuo cuore perché tu possa sentirti al sicuro. Questa trasformazione, se tu l'accoglierai, avrà luogo in tre, cinque giorni a secondo di quelle che sono le resistenze che ancora hai nella trasformazione che ti stiamo suggerendo di accogliere. e con amore e luce ti salutiamo. E con amore e luce ti saluto anch'io e ti auguro una giornata meravigliosa visto che qui il sole deve ancora sorgere. Ciao!